Stiamo attenti a non avere un cuore duro che non lascia entrare la misericordia di Dio. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino, preseduta nella cappella di Casa Santa Marta, commentando la prima lettura tratta dal libro di Giona. Il profeta prima resiste alla volontà di Dio, alla missione che gli ha affidato, poi obbedisce e avvengono miracoli. Infine fa resistenza alla misericordia del Signore, credendo più importanti i propri pensieri o un elenco di comandamenti da osservare. Quelle parola, Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio Paese? Perché Tu sei un Dio misericordioso e pietoso. E io ho fatto tutto il lavoro di predicare, io ho fatto il mio mestiere ben fatto, e Tu li perdoni. E il cuore con quella durezza che non lascia entrare la misericordia di Dio. E' più importante la mia predica, è più importante i miei pensieri. Sono più importanti i miei pensieri. E' più importante tutto quell'elenco di comandamenti che devo fare, tutto, 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 è la misericordia di Dio. Vicini all'inizio dell'anno della misericordia, preghiamo il Signore che ci faccia capire com'è il suo cuore, cosa significa misericordia, cosa vuol dire quando Lui dice misericordia voglio e non sacrificio. e non c'è nessuna cosa vuol dire quando si vede a la misericordia. E non c'è nessuna cosa vuol dire quando si vede a la misericordia di Dio. Grazie a tutti